Ben trovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di giovedì quando ritroveremo ancora una ciclogenesi sul Mediterraneo, mentre a nord delle Alpi un maestoso campo di alta pressione terrà sempre i suoi massimi tra le isole britanniche ed il mare del nord. Nel dettaglio andiamo a vedere la situazione proprio sull'Italia, perché ritroviamo delle piogge sulla parte del basso Tirreno, le due isole maggiori, ma anche i settori del basso Adriatico vedranno qualche occasionale precipitazione. In sintesi quindi un'Italia un po' divisa in due con il sole, una bella giornata sulle regioni settentrionali, la Toscana, l'Umbria, mentre dal Lazio verso sud ritroveremo nuvole e qualche pioggia occasionale rovescio. Qualche locale precipitazione, se pur di poco conto, anche su Abruzzo, Molise e Puglia. I venti saranno a rotazione ciclonica con mari quindi prevalenza mossi sul Tirreno. Dettagli maggiori approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo.